I palestinesi sono oppressi, li hanno cacciati dalla terra dove hanno vissuto per secoli. Chiediamo giustizia, nient'altro. La sua era una semplice simpatia. La nostra rivoluzione la ringrazia. Per loro era una questione di vita o di morte. Tu vuoi farla finita come guerra, no? Bene, anche noi. Che parte faccio. Diventò la loro migliore arma in una guerra che non è ancora finita. Una grande Diane Keaton. Ciao, io mi chiamo Charlie. La Tamburina, martedì alle 21, 7 Gold.